Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Mixare e masterizzare in cuffia ne ho già parlato largamente su questo canale, abbiamo sfatato un po' di miti insieme ed abbiamo aggiustato il tiro scegliendo non soltanto le cuffie migliori dedicate a questo scopo ma anche i software indispensabili per correggerle e gestire il fronte stereo come se stessimo nel nostro studio. Oggi dopo mesi di sviluppo, beta testing, spedizioni di cuffie varie, fiumi di chiacchierate al telefono presentiamo finalmente Sienna di Acustica Audio. Poche volte nella vita di un fonico ci si trova di fronte ad un cambio di strategia di lavoro, vuoi per l'esperienza accumulata, vuoi perché la pigrizia o la paura di perdere i punti di riferimento costante ma ci si trova presto o tardi di fronte a dei cambiamenti e quelli che quando arrivano modificheranno volenti o nolenti le sorti della prossima generazione di fonici con cui dovremmo confrontarci. Quella situazione, quel fenomeno che chiamiamo ora game changer e che spesso viene utilizzato in maniera spregiudicata su ogni prodotto dagli strumenti di marketing. Abbiamo visto diversi veri game changer in questo ambito negli ultimi 30 anni. Mi viene in mente proprio la rivoluzione VST inventata da Steinberg che ha portato l'audio di recording professionale in casa. Da lì una serie di nuove necessità e scoperte. I plug-in, gli strumenti virtuali, gli analizzatori di spettro sempre più potenti, le casse monitor sempre più tecnologicamente avanzate, latenza zero, le schede audio USB 2, USB 3, Thunderbolt, il multiprocessing, i mixer digitali e i controllers di ogni tipo. Fino ad arrivare ai telefoni cellulari diventati veri e propri strumenti di entertainment completi. Ed infine negli ultimi anni vari sistemi di correzione degli ambienti di lavoro meno professionali messi a punto sia da software indipendenti sia dalle compagnie che producono gli speakers come Genelec o Focal. Mixare in cuffia, sì o no? Non discuteremo in questa sete se sia possibile missare o masterizzare in cuffia senza l'ausilio di speakers perché è un discorso che ho già affrontato in diversi video e che linkerò sotto in descrizione. Ma mai come in questi ultimi due anni la possibilità concreta di farlo si è affacciata al mercato che ora è pronto ad accogliere questo sistema al pari di un sistema classico di ascolti. In questo periodo storico particolare i produttori di cuffie come abbiamo già visto in alcuni video su questo canale hanno fatto veri e propri studi avanzati alzando molto il livello tecnologico di questi dispositivi di ascolto. Alcune tecnologie recuperate dagli anni 70 sono state ridisegnate soprattutto rese più accessibili ad una fascia di utenti meno pro invadendo il mercato delle cuffie come non era mai accaduto proprio negli ultimi due anni. Questo fenomeno ha portato di conseguenza attenzione da parte di chi sviluppa software per migliorare proprio questi sistemi arrivando ad un vero e proprio fine tuning e garantire quindi un ascolto ancora più lineare, dettagliato e confortevole rispetto a quanto sia già stato fatto dal costruttore stesso delle cuffie. È stata una fortuna inizialmente di Sonarworks che ha ideato già molti anni fa un sistema di correzione delle cuffie abbastanza efficace come poi un sistema di speakers e monitor ancora più utile nelle situazioni di home recording. Molti altri poi si sono accostati al sistema di sviluppo come i K-Multimedia con ARC, Genelec con GLM eccetera eccetera. Il secondo step di questo processo di correzione si è poi affiancato all'emulazione delle control room degli studi più famosi mischiando ascolto bineurale e correzione come fa Waves o il recente Real Phones. Ma il vero game changer in questo caso non era ancora arrivato. Vuoi per mancanza di tecnologia, vuoi per la mancanza di professionisti del settore che potessero affiancarsi alla tecnologia per migliorarla al massimo della sua espressione. Dopo diversi mesi di sviluppo arriva finalmente Sienna di Acustica Audio. Già leader del settore sampling di emulazione hardware sotto forma di plugin, l'abbiamo visti molte volte su questo canale, dispone delle tecnologie e del know-how necessari e più avanzati in questo campo. Sienna è un'esperienza di ascolto in cuffia non ancora provata prima. Un nuovo sistema di ascolto basato su nuove tecnologie e curve di correzione per ogni modello di cuffia sul mercato, pensato soprattutto per interfacciarsi con le nuove tecnologie di cuffie appositamente pensate e studiate per il mix ed il mastering, che oltre a calibrare il sistema di ascolto emula la room ed il sistema di crossfeed che manca a tutti gli altri software basati su questi principi. Basti pensare che finora per avere un sistema simile di ascolto era necessario interfacciare più plugin contemporaneamente, Sonarworks per la calibrazione, Canopener per la gestione del crossfeed oppure il pre-SPL ed un sistema di emulazione di stanze non sempre convincente come quello di Waves o di Slate. Sienna è tutto questo in un unico software senza alcun problema di latenza tra i vari plugin che prima la nostra DAO era costretta a gestire. Più snello, più semplice e soprattutto adattabile come vedremo tra poco. Vediamo subito di capire come funziona Sienna attraverso lo studio dell'interfaccia. Durante le fasi di sviluppo proprio l'interfaccia ha avuto innumerevoli modifiche proprio per adeguarsi alle continue richieste dei beta testers ed arrivare infine ad un sistema basato su due concetti separati. Sienna Channel Strip che contiene appunto il sistema Reference e Room e Sienna Guru. Saranno poi presenti dei pacchetti aggiuntivi di librerie sia di nuove curve di correzione per le cuffie sia di nuove stanze per il mix. Iniziamo dal primo. L'interfaccia è estremamente semplice ed intuitiva fatta appositamente per evitare un impatto traumatico a chi si affaccia o si sta affacciando a queste tecnologie di correzione ed emulazione e anche per evitare problemi di complessità derivati dal controllo di questi parametri che rendono l'esperienza frustrante come accade sulle interfacce degli altri software. Il nostro primo approccio con il sistema Sienna è Reference in cui caricheremo la calibrazione della nostra cuffia qui in alto a sinistra. Scegliamo la mia cuffia Audis LCDX. L'ho inserito come vediamo nel sistema Listen Bus di Studio One dedicato all'ascolto calibrato e attraverso la manopola Mix che vediamo qui in basso a sempre a sinistra ascoltiamo la correzione assolutamente completa quindi sulla posizione Wet o aggiustiamola rapidamente su un mix personale ad esempio che una volta trovato un equilibrio tra ciò che è la correzione effettiva della cuffia e il nostro gusto possiamo salvare qui in alto a destra attraverso i pulsanti appunto con la freccina che indica Save One quindi cliccando il nostro parametro viene salvato sul pulsante 1 quindi il nostro preset 1 oppure creare un secondo preset Full Wet lo salviamo su 2 e quindi una volta che noi carichiamo 1 o 2 passiamo rapidamente dal sistema personale di ascolto a quello Full Correction. Arriviamo così alla manopola Magic Cue che troviamo qui al centro. Serve per controllare la caratteristica eufonica verso una curva ideale se noi ci spostiamo tutto a destra in relazione a due speakers reali a cui potremmo far riferimento. Con questo sistema possiamo quindi passare da un'esperienza di ascolto più accurata possibile quindi più naturale possibile ad una più lineare e clinica possibile. L'output infine ci permette di guadagnare fino a 24 db rispetto al segnale quindi da meno 24 a più 24 db. I meter qui in basso invece fanno riferimento all'ingresso e dall'uscita e danno un parametro tra meno 60 e più 6 db. Quindi come vediamo il sistema reference è molto molto semplice ed intuitivo. Il mio consiglio è quello di provare la situazione Full Wet e Magic Cue su Plus in modo da avere esperienza subito diretta della correzione ideale rispetto appunto al bypass del plugin. Passiamo ora a Sienna Rooms. Questa sezione di Sienna lavora in due modalità. Corregge la risposta in frequenza delle nostre cuffie qui al lato come abbiamo già visto in reference. Scegliamo quindi le mie cuffie e riproduce l'ambiente di lavoro delle stanze campionate. Come per la versione reference rooms contiene tutte le calibrazioni delle cuffie ma questa volta integra perfettamente l'ascolto riferito ad una stanza campionata in uno studio di registrazione. In questo modo possiamo controllare velocemente il nostro mix come suonano i differenti studi di registrazione. Come vediamo qui nei preset abbiamo lo studio di Acustica Audio, l'House of Glass di Gianni Bini, lo Spitfire di Marco Vannucci, la Phonoprint, Sonoria, Digitube, Regen, Sotto il Mare, Impatto e la calibrazione di alcuni speakers particolari e situazioni particolari come vediamo quindi gli speakers di un laptop, i speaker hi-fi, quelli radiofonici, i desktop speakers e quello della tv ad esempio. Per passare poi appunto all'ascolto in macchina come se avessimo appunto un ascolto all'interno di una macchina o un ascolto hi-fi high-end. Le scelte come vediamo sono enormi, tantissime. Le rooms sono divise quindi in categorie. A sinistra come vediamo abbiamo visto tutte le room in cui scegliere di lavorare, a destra le cuffie che stiamo utilizzando la loro calibrazione. Il sistema dei preset funziona esattamente come quello di Sienna Reference ma questa volta nella sezione preset qui al lato troviamo una ottimizzazione delle stanze che sono disponibili per l'ascolto. Quindi ad esempio la soft glass in versione Antares oppure Pleasure. Come vediamo cambia il colore dei led che viene acceso all'interno delle casse per identificare proprio il tipo di casse che stiamo utilizzando in questo momento. Eccolo qui è diventato rosso, prima era verde qui in alto. I controlli generali come vediamo sono quattro. Abbiamo l'input trim, il def, l'output e il sistema chiamato Perfection che troviamo qui al centro. Il pacchetto Basic comprende soltanto gli studi A, quindi Acustica Audio in questo momento e House of Glass, mentre poi possono essere acquistati dei pacchetti aggiuntivi che contengono tutti gli altri studi di Mix e di Mastering. Il pacchetto C che appunto contiene altri tipi di ascolti come abbiamo visto. Importante ricordarsi che nel menu preset abbiamo anche l'opzione Config Preset che è accessibile anche quando non abbiamo nessuna room selezionata. In questo caso non funziona, quindi ricordiamoci di scegliere prima un preset della stanza e poi successivamente un config preset appunto per modificare il preset appena caricato. Possiamo partire subito da Room Preset scegliendone una e poi da qui scegliere il config preset per avere un ascolto diverso. Il pulsante Perfection che troviamo qui al centro controlla la quantità di suono originale degli speakers campionati in una camera anecoica verso la sezione più come vediamo qui a destra dove abbiamo la loro risposta linearizzata nella stanza dello stesso speaker che sta lavorando. Il mio consiglio è di tenerlo sempre su più a meno che non carichiamo dei preset dove il perfection viene appunto selezionato in maniera diversa ma spostato verso più abbiamo la reale riproduzione dell'effetto della stanza che noi stiamo ascoltando. L'input trim ci permette di modificare appunto il segnale in ingresso da meno 24 a più 24 db. Il pulsante di output fa la stessa identica cosa ma appunto sul segnale in output mentre poi al centro troviamo il pulsante di death che parte da filtering verso translation. È il controllo di correzione applicata e serve per rendere l'ascolto in cuffia esattamente come se ci trovassimo nella stanza emulata con relativo cross feed e quindi ascolto del ghost center. In pratica esattamente come se ci trovassimo di fronte ai monitor che stiamo guardando visualizzando appunto nell'interfaccia. Come vediamo quindi tutti i comandi sono stati riassunti al massimo per avere una esperienza immediata di controllo ed ascolto sia della calibrazione della cuffia sia della risposta binaurale della stanza in cui ci troviamo. Per i più temerari possiamo aprire la versione guru di Sienna ed avere a disposizione più controlli come vediamo cliccando qui al lato su ogni parametro. È importante però sapere e conoscere ogni settore parametro per evitare di peggiorare la situazione invece di customizzarla al meglio. Io utilizzo questo sistema per arrivare ad una calibrazione simile a quella del mio studio magari partendo dallo studio Spitfire ad esempio o quello di acustica audio e arrivando a modificare i parametri per far assomigliare il suono al mio studio di preproduzione almeno fin quando i ragazzi di acustica audio non si potranno spostare per raggiungermi a Roma e campionarla direttamente. Lo vedremo presto in un secondo tutorial dedicato proprio a Sienna Guru che sto preparando e che richiede più tempo nell'analisi di tutti i dettagli messi a disposizione. Intanto godiamoci Sienna Channel Strip. Sienna ricrea lo stesso sistema di esperienza di ascolto come quando ci troviamo in una situazione di mix o di mastering in un vero studio professionale o quando ascoltiamo il nostro lavoro in un ambiente hi-fi in macchina o attraverso gli speakers bluetooth ad esempio ma questa volta direttamente in cuffia. Ci permette quindi di scegliere la calibrazione migliore possibile per la nostra cuffia ed una room tra i vari studi più famosi e professionali in un'unica soluzione. Questo ci permette inoltre quindi di iniziare a missare in cuffia senza dover spendere migliaia di euro in speakers o trattamenti della stanza o come nel mio caso che l'ho già fatto trovarmi in un ambiente di lavoro confortevole nei momenti in cui sono fuori casa o in viaggio. Il sistema è pensato per funzionare al meglio con tutti i tipi di cuffie ma non trasforma le cuffie economiche in cuffie o ascolti da migliaia di euro. Questo è importante comprenderlo lo stesso accade anche per gli altri software. Ecco perché proprio attraverso l'interfaccia con le cuffie high end si riesce ad avere un controllo sul suono proprio come se ci trovassimo in un vero studio di registrazione professionale. Nonostante questo le nostre cuffie anche quelle economiche però guadagneranno in linearità ed espressione portando comunque il livello di ascolto con i dovuti rapporti ad una nuova esperienza di controllo e definizione che sempre più spesso ricerchiamo durante le fasi di mix e soprattutto di mastering. Il pacchetto in questo momento include 130 modelli di cuffie tra le più famose e professionali attentamente profilate calibrate, due tipi di studi, quattro set di monitor high end campionati in una camera anecoica incluse nelle rooms. Già nei prossimi aggiornamenti troveremo nuovi modelli di cuffie e nuovi studi. In definitiva Sienna è ora il mio nuovo strumento di lavoro che si affianca a quello in studio senza sfigurare e senza compromessi. Il mio consiglio come sempre è scaricate la demo e provatelo. Per il momento è tutto. Ciao a presto. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto. Ciao a presto.